Buonasera, buonasera a tutti lunedì 13 maggio, è un pochino che non mi faccio sentire perché stiamo facendo come si dice molto lavoro dietro le quinte, stiamo lavorando a diversi provvedimenti che per forza di cose hanno bisogno di parecchio lavoro sotterraneo prima di arrivare alla luce, però oggi volevo parlarvi di una cosa la cui notizia ufficiale è già uscita sui giornali per cui ve ne posso parlare perché appunto la notizia sui giornali c'è già e volevo spiegarvela un po' meglio, è una cosa di cui come 5 Stelle ne parliamo da almeno due anni e anzi giusto per farvi un attimino memoria da quando ne parliamo diffusamente probabilmente molti di voi ricorderanno quando il nostro ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ebbe un piccolissimo problemino di salute, fu ricoverato un paio di giorni in osservazione all'ospedale perché era appena rientrato dalla Danimarca e in Danimarca dove aveva preso, evidentemente aveva mangiato qualcosa di un po' così strano, in Danimarca c'eravamo andati assieme, lui, c'ero anch'io, c'era anche il nostro sottosegretario attuale allo sviluppo economico Davide Crippa e c'erano dei funzionali dell'Enel perché eravamo andati a vedere la famosa tecnologia V2G, di cui da allora, quindi da almeno un paio d'anni ve ne parlo periodicamente. Cos'è la tecnologia V2G? Ricordiamolo, anche se ormai il termine comincia a essere in uso, significa vehicle to grid, significa banalmente che stiamo parlando di automobili elettriche e della relativa colonnina di ricarica dell'auto elettrica. Ora, molti di voi pensano che l'auto elettrica sia un dispositivo, uno strumento che si limita a prendere energia dalla rete pubblica, eventualmente anche privata naturalmente, comunque prendere energia e incamerarla sulle batterie. Naturalmente l'auto elettrica per andare ha bisogno di elettricità e quindi naturalmente deve ricaricarsi prendendo energia dalla rete. Però la tecnologia V2G significa che l'auto può funzionare anche al contrario, cioè l'automobile può dare, ovviamente se ha le batterie almeno un po' cariche, l'automobile può dare energia alla rete, sia sotto forma di corrente, sia sotto forma di tensione. Ecco, questa tecnologia appunto in gergo tecnico si chiama V2G oppure vehicle to grid. Quindi in presenza di una colonnina opportunamente costruita, quindi una colonnina che funziona bidirezionalmente in entrambe le direzioni, ecco che l'auto elettrica può prendere energia dalla rete quando vuole ricaricarsi, oppure quando la rete è sotto stress nei momenti di picco, nei momenti di grande utilizzo della rete, ecco che la batteria dell'automobile può andare in soccorso della rete ed è l'automobile che cede energia alla rete. Ora voi direte, tutto questo cosa c'entra con la bolletta e con un eventuale risparmio? C'entra molto perché una buona fetta dei costi che noi supportiamo e che paghiamo con la rete elettrica sono i cosiddetti oneri di sbilanciamento, sono i costi del mercato del dispacciamento, di cui vi ho parlato già altre volte, cerco di riassumervelo ancora, l'energia elettrica si acquista in anticipo rispetto al momento dell'utilizzo, non la compro ora per ora, normalmente la compro il giorno prima e quindi esiste il mercato del giorno prima. Dopodiché esistono anche dei mercati più vicini alla consegna, quindi i cosiddetti mercati infragiornalieri e anche di questo ve ne ho parlato nelle settimane precedenti. Sono tutti mercati in cui appunto io acquisto l'energia in anticipo a quando realmente mi serve, come si fa normalmente per tante materie prime, per tanti beni di consumo, faccio un ordine anticipato in maniera da non doverlo fare all'ultimo momento nel quale naturalmente la merce mi costerà di più. Ecco, nonostante tutti questi mercati fatti in anticipo, succede costantemente che non c'è mai un equilibrio perfetto tra quanto avevo prenotato come corrente elettrica e quanto poi effettivamente in quel momento serve. Siccome la rete elettrica è una rete che si caratterizza per il fatto che io la produzione la devo consumare immediatamente, perlomeno finché non faremo moltissimi sistemi di accumulo batterie, ecco che devo andare all'ultimo momento comunque a operare con degli acquisti o con delle vendite appunto dell'ultimo momento che sono molto costose perché vengono fatte all'ultimo momento e quindi questo maggior costo viene pagato in bolletta. Per cui se io riesco a diminuire la quantità di questi acquisti vendite fatti all'ultimo momento, che ripeto sono molto costosi, ecco che riesco a diminuire la bolletta elettrica e poiché le batterie delle automobili saranno in grado di farmi questo tipo di operazione andando in soccorso della rete quando la rete ha bisogno di maggiore elettricità e viceversa saranno in grado di dare in soccorso della rete quando la rete ha troppa elettricità e la deve immagazzinare da qualche parte, ecco che le automobili elettriche faranno proprio questa tipologia di servizi. Altre volte vi ho pure spiegato che proprio perché le auto elettriche faranno questi servizi, questi servizi saranno pure remunerati, quindi non solo avremo un vantaggio complessivo globale perché diminueranno le quantità di energie comprate e vendute all'ultimo momento che sono molto costose e il cui prezzo viene spalmato sulla bolletta di tutti e quindi questo prezzo si abbasserà e quindi avremo un beneficio distribuito per tutti. Ma addirittura il proprietario dell'auto elettrica, come avviene già adesso in Danimarca, verrà immediatamente pagato, proprio letteralmente pagato per dare questo tipo di servizio. Già adesso in Danimarca chi concede alla propria auto di fare questa tipologia di servizi viene pagato diverse centinaia di euro. Quindi la notizia puntuale di questi giorni è che il governo sta lavorando a una bozza di decreto che permetta l'effettivo compiersi di quest'ulteriore passo. Ve l'avevamo detto a dicembre perché noi avevamo previsto nella stabilità questa norma che aveva bisogno di un decreto attuativo ed ecco che questo decreto si sta per concretizzare e quindi sarà possibile per gli operatori e per le auto elettriche finalmente intervenire in questa tipologia di mercato. Voglio anche ribadire che spesso vi ho spiegato che uno dei motivi per cui questi mercati degli ultimi momenti costano molto è perché in questo momento, stante le regole dei mercati elettrici che abbiamo ereditato naturalmente dalle legislature passate, questi mercati sono ancora terreno di caccia esclusivo delle fonti fossili. Le rinnovabili ancora non riescono a partecipare perché mancano degli oggetti normativi su cui noi stiamo lavorando da nove mesi, da quando siamo al governo e che purtroppo hanno bisogno di un po' di tempo per realizzarsi. Sono le cosiddette unità virtuali di aggregazione che in buona sostanza come dice il nome sono degli aggregatori, quindi tantissimi sistemi di produzione da fonti rinnovabili che si aggregano, diventano diciamo così un oggetto unico e quell'oggetto unico riesce ad andare su questa tipologia di mercati, cosa che invece il singolo impianto rinnovabile molto molto difficilmente riuscirebbe a fare perché è troppo piccolo. E noi stiamo lavorando su questo, quindi il governo sta aggiungendo alle varie tipologie di sistemi di accumulo di queste unità virtuali di aggregazione anche l'unità virtuale di ricarica, quindi proprio per le automobili elettriche con questa tecnologia appunto bidirezionale in cui la colonnina può funzionare in un verso, può funzionare nell'altro e naturalmente l'automobile perché ovviamente la batteria può accumulare energia oppure può dare energia una volta che è un attimino, una volta che ha una certa carica, insomma chiaramente non può farlo se è completamente scarica ma dal momento in cui comincia ad avere 5, 10, 15, 20% di carica può dare questa tipologia di servizi. Ecco questo è uno strumento strutturale ulteriore su cui stiamo lavorando. Noterete che io da diversi anni vi sto parlando di soluzioni strutturali per abbassare il costo dell'energia perché se andiamo ad agire sulla parte fiscale, accise, IVA, queste non sono soluzioni strutturali, sono soluzioni politiche che diciamo così possono essere fatte un giorno e disfatte il giorno dopo o magari da un governo di colore diverso. Invece le soluzioni di cui io vi parlo sono soluzioni strutturali, cioè una volta implementate sarà estremamente difficile di sfarle nel senso che sono soluzioni che danno un vantaggio per tutti sul mercato e quindi sarà molto difficile poi contestarle una volta messe in opera e dimostrato appunto il beneficio che comportano a tutti in maniera ribadisco strutturale. Per cui in questi ultimi mesi quando vi ho parlato appunto di questi sistemi di aggregazione, vi ho parlato del mercato infragionaliero, vi ho parlato del mercato del dispacciamento, tutte norme che servono per strutturare meglio il mercato e una volta strutturato meglio ribadisco sarà estremamente difficile per qualsiasi governo o qualsiasi politico tornare indietro perché i vantaggi saranno talmente evidenti e strutturali che appunto sarà molto difficile tornare indietro. Ecco questo è un ulteriore passaggio lavorando su queste unità virtuali di aggregazione per le colonnine di ricarica avremo un ulteriore beneficio pubblico e poi ribadisco anche privato perché come spiegai già due anni fa chi possiederà un'auto elettrica potrà negoziare con il proprio fornitore, sicuramente il proprio fornitore gli darà immediatamente questo tipo di opzione cioè gli dirà al possessore di auto elettrica caro proprietario se tu mi concedi che io possa utilizzare la tua auto in maniera bidirezionale io ti farò per dire uno sconto dell'X% sulla tua bolletta elettrica. Ci potrebbe essere qualcuno che addirittura da proprio dei contanti da una cifra annuale 100, 200, 300, 400 euro al tempo in cui io chiesi queste informazioni a Enel venne quantificato in circa 400 euro all'anno il beneficio che sarebbe stato appunto realizzato dal proprietario di un'auto elettrica. Quindi questo è un ulteriore passo su cui stiamo lavorando e che la tecnologia mette a disposizione per migliorare in maniera strutturale. Nelle settimane scorse abbiamo proseguito questo lavoro diciamo di background che non si vedono risultati in maniera immediata sul mercato infragiornaliero sul mercato infragiornaliero c'è già una sequenza temporale ben definita dovrebbe cambiare in meglio a metà dell'anno prossimo e noi naturalmente con le nostre audizioni ci premuniamo di capire tutto quello che può essere capito su questa tipologia di mercato, di mettere a confronto le varie parti di sentire il parere di tutti e naturalmente di tenere sollecitate le parti responsabili di scrivere puntualmente queste nuove norme di farlo in maniera assolutamente non ritardata. Quindi il timing, il cronoprogramma è già previsto, è già stato stabilito a livello europeo dovrà entrare in funzione a metà dell'anno prossimo e noi già da ora ci stiamo sopra e questo sarà un ulteriore miglioramento per la bolletta di tutti. Naturalmente ci sono tantissime altre cose da dire sulla bolletta ma chi mi segue sa che le ho spiegate negli anni precedenti, partiamo sempre dall'involucro, partiamo sempre dall'edificio dal fatto di migliorare l'edificio perché un colabrodo è sempre un colabrodo per cui io posso pomparci anche tantissima energia ma se è un colabrodo l'energia continuerà fisicamente a uscire sotto forma di calore d'inverno e viceversa di aria fresca d'estate se io non ho un edificio ben coinventato, vi ho ribadito e lo ripeto per l'ennesima volta, valutate bene le detrazioni fiscali del 65% su efficientamento energetico perché vi consentono di realizzare un edificio molto più efficiente da un punto di vista energetico e quindi abbassare le vostre bollette. Ma non voglio reiniziare da capo con tutte le cose che ho detto negli anni scorsi, potete andare nella mia pagina Facebook, nel mio sito ufficiale portavosigirotto.it e tantissime volte, non solo io naturalmente, tutto il movimento vi ha ricordato l'importanza di queste detrazioni fiscali che adesso con il decreto crescita hanno un ulteriore scatto in avanti, anche questo ve l'ho spiegato pochi giorni fa, sarà possibile chiedere lo sconto immediato, quindi lo riassumo per l'ennesima volta, o meglio lo riassumo dopo averlo spiegato la settimana scorsa, se dovete per esempio acquistare una caldaia che costa 1000 euro potrete optare per lo sconto immediato del 50-65% a seconda della tecnologia della caldaia e quindi pagarla immediatamente con uno sconto del 50-65% e questa detrazione fiscale se la porterà in capo il fornitore, il fornitore che vi venderà fisicamente questo strumento e questo vale per le caldaie, vale per i serramenti, vale per le pompe di calore, vale per gli isolamenti, quindi i cappotti esterni degli edifici eccetera eccetera. Vi rimando al video che ho fatto la settimana scorsa per non doverlo ripetere continuamente e annoiare chi lo ha già sentito, chi non l'avesse sentito ribadisco basta che vada su Facebook una settimana passata e rispiego questo enorme avanzamento che poniamo in essere con il decreto crescita. Per il resto vi continuerò a tenere aggiornato su tutti i lavori che afferiscono la Commissione, non solo sull'energia ma anche sulle altre questioni man mano che arriviamo vicini ad un qualche risultato, comunque c'è qualcosa di significativo da potervi dire. Per il resto moltissimo lavoro non porta al risultato immediato ma va fatto, siamo su un sistema burocratico legislativo molto complesso per cui portate pazienza, non si riesce a ottenere risultati immediati, veloci quanto vorremmo. Però questo è già a buon punto per cui spero presto di potervi dare notizia sull'uscita di questo decreto e quindi la possibilità per tutti di avere un ulteriore vantaggio in bolletta. Grazie e buona serata a tutti.